Alla recente Fashion Night romana c'era anche lei, la bellissima Melissa Satta, che come l'edizione precedente ha attirato tantissimi curiosi e ammiratori. Crei sempre le code più lunghe dei fan. Ah dici, io non li ho visti gli altri negozi, ho avuto la fortuna di riuscire ad arrivare proprio qui davanti, siamo corsi in negozio. Devo dire che sì, ho visto tantissima gente fuori. Look casual, total black, l'ex Evelina firma autografi e si fa scattare foto ricordo, in via del corso, nella boutique Fornarina, un brand che la Satta veste nella quotidianità. Ti dico la verità, io Fornarina l'ho conosciuto quando avevo 13-14 anni, che portavo le loro sneakers. Poi le avevo un po' persi di vista e quest'anno poi mi hanno contattato per questo progetto e devo dire che sono andata a vedere la collezione e mi è piaciuta tantissimo. erano tanti anni che non avevo più seguito la loro moda e li ho riscoperti, è stata una gran bella scoperta, soprattutto perché poi io sono spesso jeans, t-shirt e anche scarpe comode, quindi è l'ideale. Sul volto di Melli un sorriso smagliante, merito anche della recente proposta di matrimonio arrivata dal fidanzato Kevin e Prince Boateng, insieme ad un anello con diamante da 1,8 carati, che non passa di certo inosservato, anche se lei non ama esibirlo più di tanto. L'anello è qui? L'anello è qui! L'anello è qui! L'anello è qui! L'anello è qui!